Fermati, siediti e guarda come gira il mondo, ti sembra normale, tu dimmi se ti sembra normale. Fermati, riflettici e pensa che c'è gente con fretta a morire, la società malata ma tu. Fermati, siediti e guarda come gira il mondo, ti sembra normale, ma insieme possiamo cambiare allora. Fermati, riflettici, lo sai che chi ha il potere non vuole cambiare, la società orientata per il male. La società orientata per il male, la società orientata per il male, la società orientata per il male. Fermati, siediti e guarda come gira il mondo, ti sembra normale, tu dimmi se ti sembra normale. Fermati, riflettici e pensa che c'è gente con fretta a morire, una società malata ma tu. Fermati, siediti e guarda come gira il mondo, ti sembra normale, ma insieme possiamo cambiare allora. Fermati, riflettici, lo sai che chi ha il potere non vuole cambiare. La società orientata per il male, la società orientata per il male. La società orientata per il male, la società orientata per il male. La società orientata per il male. Grazie a tutti.